Dopo tre weekend consecutivi di furti nelle abitazioni di Villa Fastigi, la polizia di Pesaro, intervenuta con quattro pattuglie della squadra mobile, ha individuato e fermato i primi responsabili. Già ieri sera era cominciato a circolare un video amatoriale divenuto virale sui social cittadini, ritraente un'auto sospetta fermata dalla polizia. Un posto di blocco che nell'occasione ha mandato in fibrillazione alcuni residenti di Villa Fastigi per la cattura dei presunti responsabili. Alla luce degli accertamenti effettuati i componenti dell'auto sono risultati una famiglia di origine croata composta da un uomo e dalla sua compagna, entrambi di 35 anni assieme alla figlia di 8 anni. La coppia di genitori è risultata aggravata da precedenti perfurti in appartamento consumati soprattutto a Ferrara. L'identikit dell'uomo è corrisposto alla descrizione dell'autore di un furto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri proprio ad anno della pizzeria e della ferramenta di Villa Fastigi. I due 35 anni sono stati condotti in questura dove sono stati acquisiti riscontri sulla loro partecipazione al furto. I due sono risultati appoggiarsi in un camper in un terreno adiacente a via Lago di Lesina. Qui gli investigatori hanno trovato anche un altro nucleo familiare composto da un'altra coppia di origine croata pluripregiudicata per il reato di furto in appartamento e anch'essa residente in provincia di Ferrara. In particolare l'uomo, un 25enne, è risultato fratello del primo soggetto fermato ed è risultato soprattutto ricercato per essere evaso dagli arresti domiciliari il 5 marzo dalla sua casa di Riva del Po in provincia di Ferrara. Un soggetto che deve tuttora scontare una pena residua di due anni e tre mesi. Estese le indagini a tutto il nucleo familiare si è arrivata a identificare una seconda auto già avvistata a Villa Fastigi. Segnalata dalla questura di Pesaro quest'auto è stata fermata e controllata dalla questura di Ravenna con a bordo un terzo fratello anch'esso pregiudicato per reati connessi al furto in appartamento. A questo punto gli accertamenti si sono rivolti a chiarire anche la titolarità del terreno dove era il camper che ospitava il latitante. Terreno che risulta intestato ad un quarto fratello 29enne pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e furti in abitazione residente in Toscana ma titolare di due distinti terreni a Villa Fastigi. Il croato latitante è stato trasferito nella notte nel carcere di Pesaro mentre l'altro fratello e le due donne sono state colpite da foglio di via firmato dal questore. Intanto prosegue l'attività investigativa di un'indagine che non è conclusa.